In questo tutorial vedremo come al database che abbiamo creato, sempre questo relativo al controllo delle spese di casa si può applicare uno strumento di monitoraggio lo strumento di monitoraggio in questo caso potrebbe essere un semplice grafico che ci riporta le spese dal punto di vista grafico lungo il tempo Allora, come fare? Innanzitutto bisogna fare riferimento sempre alla tabella dati nel nostro caso Vedete la query che abbiamo visto prima, questa query a campi incrociati è una query costruita sulla tabella dati La stessa maschera che abbiamo costruito fa riferimento alla tabella dati Ancora la tabella dati sarà lo spunto per la creazione di un grafico Allora, selezioniamo la tabella dati e posizioniamoci nella sezione maschere In corrispondenza di altre maschere scegliamo il comando grafico Compare un'area grazie alla quale si possono disporre degli elementi per la costruzione del grafico Questi elementi ovviamente sono i campi per cui andiamo in elenco campi Qui in alto a destra, vedete? Ci clicco su elenco campi E ho la possibilità di scegliere i campi che voglio riportare sul grafico Allora, innanzitutto voglio riportare sull'asse orizzontale Comunemente chiamato l'asse delle ascisse Quindi la categoria che fa riferimento alla data, quindi al tempo Access predispone già naturalmente una data giorno per giorno, per settimana, per mese e così via A me fa comodo, ad esempio, aprire la data per mese e fare riferimento al mese Per cui clicco sulla voce mese con il tasto sinistro e trascino lungo il grafico Rilasciando nella parte sottostante, qui vedete in questa parte che si colora di blu Il campo, appunto, inerente al mese Poi, per quanto riguarda invece l'altra variabile, cioè la variabile, quella che cambia quindi nel tempo Voglio prendere in considerazione l'importo della spesa Per cui, seleziono la voce importo La seleziono con il tasto sinistro del mouse La trascino lungo l'area del grafico E la rilascio nel, diciamo, rettangolo che si tinge di arancione Il cui bordo si tinge di, scusate, di blu La rilascio all'interno di questo rettangolo Come vedete, mi compaiono i mesi di giugno, di luglio e di agosto E in corrispondenza di ciascun mese Vedete, c'è la possibilità di vedere il totale delle spese Mi risulta che a giugno c'è stata una spesa di 1000 euro A luglio, invece, complessivamente ho speso più di 1600 euro Ad agosto la spesa, almeno quella registrata, insomma, ricordiamo che è un esempio È più modesta, è intorno agli 800 euro Se noi continuassimo ad inserire i nostri dati all'interno della, diciamo, della nostra maschera Ovviamente avremmo anche dei mesi successivi Per cui abbiamo la possibilità di vedere come variano nel tempo le spese mensili Ovviamente se io clicco sul grafico Diciamo, c'ho anche la possibilità di apportare delle modifiche al grafico stesso Ma queste saranno oggetto, diciamo, del prossimo tutorial Ricordo che tutti i corsi, videocorsi gratuiti e gli approfondimenti sui tutorial